Bella Brown. Non c'era nulla di normale in quella ragazza, terrorizzata dall'imprevedibilità della natura e della flora in particolar modo. Eugenio Brian, padrone di casa. È una questione urgente, signorina Brown. Doveva mantenere in buono stato la proprietà, signorina Brown. Ho ricevuto una lamentela. Perché dice così? Hai dilapidato tutto quello che la natura ci ha donato. E tu sei in ritardo. Sei fuori. Puoi lavorare per me. Ridammi subito il mio cuoco. Ho un'avversione per le piante e non è negligenza. Quanto più paura e disgusto, ma prometto che me ne occuperò. Ha esattamente un mese, a partire da oggi. Penso di non essere una scrittrice, né tantomeno una giardiniera. Credo siano più belli attaccati alla pianta. Stavo solo cercando di dare una ripulita. Così ha detto Hitler sull'Europa. Io sto provando a mettere in ordine. E se lei avesse un briciolo di umanità, mi aiuterebbe? Se però mi ridai il mio cuoco. No. Sì. Accetto di cucinare. Ma lei aiuterà Bella a sistemare il giardino. Quando è stata la sua ultima confessione? Come si crea un giardino? Come lo si mantiene vivo da aprile a ottobre? Buongiorno. L'altro giorno in biblioteca ha lasciato un pezzo di carta. Io creo oggetti. Io sono un designer. Questa è l'una. Usa l'energia della luce. Ci sto impiegando un'eternità. Ogni cosa di valore richiede tempo. Continua. Vita e natura cercando la luce. Voglio sapere che succede dopo. Grazie. È stato un piacere per me farlo. Bellissimo. Fantastico. Grazie.